eccoci amici cari anche stasera abbiamo tantissime notizie vedremo anche altre cose che stanno accadendo in italia perché perché ci stanno offuscando le menti con notizie no covid 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 esiste sembra sembra esistere solo il covid invece continua tutto attorno a noi e continua in maniera probabilmente come possiamo dire artefatta forse artefatta finiremo questo nostro incontro con un articolo importantissimo guardate lo abbiamo messo anche nei nostri post abbiamo trovato letto apprezzato un articolo di un medico ma non solo coraggioso ed è talmente coraggioso che solo una donna poteva scriverlo di un medico che sulla verità ha scritto delle verità veramente sconvolgenti veramente sconvolgenti l'articolo è questo lo faccio vedere poi ne parleremo alla fine di questo nostro incontro eccolo qui il titolo è il covid è curato con i farmaci errati mentre noi restiamo prigionieri guardate con i farmaci errati questo ecco qui chi lo scrive la verità notizie veramente sconvolgenti che conoscevamo perché già abbiamo il sentore di quello che accade ma che un medico lo scriva su una pagina intera di un quotidiano e ci metta la faccia ci metta la sua firma ci metta le sue verità è una cosa che dobbiamo apprezzare e se ci capiterà ringraziamo questo medico per questo ringraziamo se ci capita troviamo il suo indirizzo ringraziamo per le verità che ci ha detto allora andiamo rapidissimamente notizie di tutti i generi ma perché non ci dobbiamo far distrarre esclusivamente covid 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 come se l'altro esistesse nella nostra vita anzi mentre noi siamo indirizzati a questa visione succede di tutto guardate guardate ci stiamo impoverendo ristoranti chiusi palestre chiuse e imprenditori a pezzi disoccupati povera gente che lavorava in nero che non lavora più in nero e non può neanche sfumare i loro figli ecco notizia di ieri di maio ministro di giordania 200 milioni al governo della giordania l'italia dona 200 milioni di euro al giordania notizia di ieri non la commentiamo neanche nel frattempo è passata sotto banco un'altra notizia clamorosa clamorosa cosa ci è rimasto ormai hanno comprato tutto svenduto tutto regalato tutto c'è rimasto un pezzetto di fiat un pezzetto no sta in america ormai fca nonostante tutto noi paghiamo la cassa integrazione insomma lasciamo perdere quello che paghiamo noi italiani con le nostre tasse la fiat è stata svenduta che dico accordo tra peggio accordo e fiat accordo come se la fiat avesse guadagnato l'italia avesse guadagnato con l'impresa nazionale un ruolo particolare ecco il ruolo particolare dell'italia nella nuova fiat che si chiama adesso stellantis eccolo qua la guida di alfa romeo andrà al francese imparato ecco qui la notizia che vedete in una paginetta sotto sotto nascosta eccolo le notizie della svendita del paese italia nel frattempo stiamo cercando l'italia sta cercando soldi per la sua sanità gli ospedali devono essere rinnovati la sanità deve essere rinnovata medici infrastrutture nuovi ospedali tutto quanto al parole sono un sacco di chiacchiere investiremo miliardi dell'unione europea li investiremo in ospedali strutture sanitarie eccoli i nostri soldi guardate ospedali lavori lumaca non utilizzati 315 milioni di euro guardate ecco qua il ministero non ha mai controllato il programma delle regioni guardate eccolo qua ritardo negli investimenti la corte di conti sta indagando 315 milioni di euro non no destinati alla sanità e non spesi non spesi ecco sono le verità di cui dobbiamo avere certezza tutti i giorni sono verità non sono non sono politicismi tattiche noi guardiamo tutti i giorni la verità le verità le verità e mentre noi siamo indirizzati esclusivamente a quello covid 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 non c'è programma che non ci bombarde notizie politiche perché poi alla fine alla fine chi ci dovrebbe governare dovrebbe essere la politica in teoria la nostra costituzione ci dice popolo italiano è la costituzione il vostro faro e quindi il parlamento è la sede della democrazia parlamentare falso falso ormai fa tutto solo ed esclusivamente il governo ecco qui guardate ecco qui conte moltiplica i ministri per comprare un po' di voti questo non lo diciamo noi stiamo leggendo conte moltiplica i ministeri per comprarsi un po' di voti ma dove sono finiti i famosi paletti del colle vedete vi ricordate il colle mattarella perché sei muto ecco qui questo dicono i giorni ecco qui guardate questa faccia intelligente vedete guardatela la stampella di conte curerebbe che sarebbe questo signore si chiama lillo ciampolillo senatore si chiama eccolo qua guardate la faccia molto molto perspicace la stampella di conte che sarebbe questo signore qua curerebbe il covid usando la marijuana e non solo eccolo qui lo vediamo in un'altra immagine eccolo il grillino sull'albero dell'ex lady di ferro eccolo in forzi di giuseppe eccolo qua eccolo viveva viveva un giorno mise la sua residenza su un albero questo dovrebbe essere il nuovo governo che rappresenta i cittadini italiani andiamo un attimo a vedere che sta succedendo quei vaccini no perché stanno facendo il gioco delle tre carte stanno facendo voi sapete che ci hanno tolto il 30 per cento dei vaccini non si sa dove siano andati alcuri alcuri ha detto che denuncerà la cipher si sono impauriti guardate si sono impauriti follemente perché addirittura il governo italiano guardate il titolone a una pagina hanno hanno fatto fare un titolo a una pagina guardiamo insieme l'italia fa causa cipher il colosso usa dovrebbe riprendere forniture cioè guardate il terrore il terrore del cipher l'italia gli fa causa il governo da un mandato all'avvocatura ma ci vi rendete conto cioè il governo che fa la causa alla più grande azienda del mondo che sta dando miliardi di vaccini in giro e noi gli facciamo la causa addirittura ma ci ma ma vi mancherà qualche cosa ma vi mancherà qualche cosa ma solo solo a dirla questa cosa guardate il governo da un mandato all'avvocatura per fare causa alla cipher ma questi vi si comprano come comprano un pacchetto di bruscolini vengono qui e vi mettono in un trittatore di 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 carta cioè ma invece di farci vedere gli accordi che hanno fatto i contratti ce li fate vedere questi contratti ma ce li fate no sono secretati ma che un scusate un contratto di compravendita ma può essere secretato ma che ha di così segreto ma spiegate alle cittadini italiani i soldi sono nostri i soldi che state utilizzando sono dei cittadini italiani e secretati contratti fate causa alla cipher e nel frattempo che succede fra 10 ecco se poi la causa la fate in italia la causa finirà a 27 anni forse 28 anni nel frattempo conte sarà andato in pensione sarà i giardinetti di maio probabilmente farà non so l'operaio dell'ilva e fra 28 anni un giudice forse dirà ah c'aveva ragione vediamo ridestituiamo 50 euro dei vaccini che non vi sono stati consegnati ecco quella che li dai e allora che cosa succede guardate l'informazione guardate la cipher non ha più vaccini in italia che succede tu nel frattempo sono partiti tutti a tutti a fare i vaccini l'ordine degli avvocati vogliamo i vaccini per noi l'ordine psicologi no ci siamo primi noi cioè la guerra sembra una guerra la lotteria no chi è più bravo più bello più buono anzi anzi abbiamo saputo che in alcuni ospedali hanno fatto la lotteria veramente per dare i vaccini allora il titolo furbo dato che non ci saranno non ci saranno probabilmente i vaccini neanche per fare per quelli che hanno fatto neanche il richiamo cioè neanche il richiamo quindi quei poveracci che sono stati obbligati a farlo lo hanno voluto fare e che entro 21 giorni specifici 21 giorni secondo il bugiardino dell'up cipher devono assolutamente fare il richiamo altrimenti decade il primo vaccino non ci saranno probabilmente allora guardate il titolo per impaurire il popolo eccolo eccolo senza siero e allarme anziani rischiamo migliaia di morti guardate che titolo rischiamo cavolo allora ci sarà uno studio universitario che avrà avrà fatto sì che venga promulgato questo titolo ci saranno degli studi scientifici cavolo un titolo riguardiamolo eccolo qui senza siero rischiamo migliaia di morti e allarme anziani e cavolo diteci da quale studio prendete questo titolo ecco eccolo guardatelo i calcoli delle associazioni della terza età i calcoli delle associazioni della terza età ma di che siamo avete visto avete capito come vengono dati i numeri ecco guardate i numeri su covid sono dati all'otto all'otto e qui c'è un numero guardate c'è il numero 80.000 morti da qui a giugno 80.000 morti ma questo qui ma non è un reato si chiama procurato allarme è un reato diteci chi sono queste associazioni nome cognome codice fiscale le quereliamo noi si chiama procurato allarme 80.000 morti e perché 80.000 morti perché le associazioni della terza età non sappiamo quali sono hanno calcolato che senza il vaccino moriranno 80.000 anziani ma siamo alla follia senza precedenti mi rendete conto e allora e allora e allora perché devono morire 80.000 anziani ma le state curando ma le state curando ma siamo sicuri che state curando le persone noi siamo avvocati siamo giuristi l'unica cosa che stiamo facendo e lo sapete stiamo riuscendo ogni tanto a fare sequestrare qualche salma qualche qualche cartella clinica a fare indagini ci sono parecchie indagini in corso parecchi avvocati come noi parecchie associazioni come noi che sono riusciti a entrare in questo meccanismo e prima o poi ci saranno anche le indagini e la chiusura delle indagini ne vedremo delle belle ma non siamo sicuri che li stiano curando bene i nostri nonni i nostri genitori i nostri amici ecco leggiamo insieme leggiamo insieme il covid è curato con i farmaci errati vedete questo non è un titolo di giornale questo è è una dichiarazione vedete l'influenza non esiste più e chi ce lo dice guardate guardate sono un medico mi assumo la responsabilità fino all'ultima sillaba di quello che dico eccola qui guardate ovviamente solo una donna poteva avere questo coraggio adesso lo dico sono un uomo ma solo le donne riescono avere questo coraggio scusatemi amici uomini ma ecco qui sono un medico e mi assumo la responsabilità e cosa dice per evitare per evitare migliaia di morti basterebbe usare cortisone e parina vitamina cendovena clorochina aspirina e plasma iperimmune ma il ministero è di medici il ministero è di medici preferiscono propagandare la distruzione delle nostre libertà dottoressa silvana de mari noi la ringraziamo del coraggio che ha avuto noi la ringraziamo noi siamo a sua totale disposizione subita certamente delle pressioni angherie probabilmente caricati denunce ecco conti su di noi sulla nostra piccola forza noi saremo al suo fianco perché lei ha messo la faccia la sua firma su quello che ha detto e vediamo cosa dice la dottoressa dei mari di cose particolarmente veritiere importanti pregne guardate ma vedete sono così cose talmente guardate sono delle cose che afferma la dottoressa dei mari talmente certificate semplici che non possono essere smentite cioè non non parla di cose parla di cose veritiere semplici guardate a tre quattro asserzioni insieme guardate l'influenza non esiste più non abbiamo più morti in europa di influenza un risultato spettacolare quindi evidentemente il covid si è mangiato vivi tutti gli altri virus influenzali che ha trovato sulla sua strada sono scomparsi anche i 40.000 morti che si facevano tutti gli anni per infazioni ospedaliere quasi sempre su polmoniti non ce ne sono più sono un medico mi assumo la responsabilità di quello che dico e cosa dice ma adesso noi sappiamo come curare il covid dopo tutto quello che è successo lo sappiamo dai primissimi sintomi aspirina leggete non tachipirina che non è un infiammatorio e non ferma il covid perché il covid uccide per infiammazione non tachipirina non tachipirina non tachipirina e infatti dice le linee guida del ministero della salute al contrario al contrario prescrivono la tachipirina che è il farmaco che in prima battuta raccomandano mentre dice la dottoressa dei mari la tachipirina non solo non ferma l'influenza l'infiammazione ma la favorisce grazie a un'azione sul glutatione leva le febbre dando l'illusione al paziente di stare meglio la vitamina c endovena potenza sistema immunitario una potentazione antitossica antitossinica oltre a questi farmaci c'è il plasma iper immune il 95 per cento delle persone che incontra il virus guarisce senza neanche accorgersene se nella vostra famiglia stiamo leggendo non sono parole nostre ricordo a tutti quanti i lettori gli ascoltatori sono parole della dottoressa silvana mari a cui la verità ha dato una pagina intera se nella vostra famiglia qualcuno è deciduto per covid fatevi dare la fotocopia della cartella clinica se sopra c'è scritto tachipirina o paracitamolo e non ci sono scritte le parole eparina cortisone idrossiclorina azitromicina e soprattutto plasma iperimmuni denunciate denunciate gli anticorpi monoclonali guariscono in 48 ore sono fabbricati a latina sono fabbricati a latina una cittadina vicino a roma nient'altro guardate vi faccio vedere questo articolo trovatelo anche su internet lo potete anche fotografare se ci riuscite ma è un articolo sconvolgente un articolo sconvolgente di una dottoressa un medico che ha avuto coraggio di dire le sue verità voi che avete il potere ministri virologi che andate in televisione perché non vi confrontate con questa dottoressa perché non la chiamate in una vostra trasmissione e vi confrontate vi confrontate la dottoressa verrà anche gratuitamente voi prendete dei soldi per partecipare alle trasmissioni con fazio la dottoressa siamo certi che verrebbe gratis confrontatevi confrontate la scienza o da domani questa dottoressa sarà negazionista fascista massone pedofila chissà che cosa gli diranno di questa dottoressa solo perché ci sta spiegando realmente alcuni fatti importanti ma è un medico quindi importante della sua vita di medico non di politico non di politico di medico bene non molliamo non molliamo ricordatevi che stiamo ancora lavorando tra qualche giorni vi arriverà a tutti quelli che hanno delito anche i famosi moduli per la partecipazione alla richiesta di esercimento di danni al governo e stiamo preparando anche una grandissima grandissima vastissima querela querela non esposto ricordatevi per le azioni che riteniamo illegali svolte dal governo contro i cittadini italiani ci vediamo nei prossimi giorni un abbraccio a tutti mi raccomando non molliamo un attimo sempre vigili perché siamo le sentinelle della costituzione italiana ciao